Sai che cosa? Fa molto di moda l'idea di questi film che trattano argomenti psicologici. Una sorta di metateatro. Prendiamo ad esempio quella vecchietta laggiù. Non è utile alla storia, ma ora che è stata inquadrata, ci è entrata contro la sua volontà. Secondo me nessuno vorrebbe vedere una cosa che inizia così. Forse lo scrittore non aveva grandi idee in mente. Che non vorrebbero vederla è diverso dall'averla già vista. Non so se questo niente si rivelerà qualcosa. Dovrà pur partire questa storia. Mi sa che non riusciremo mai ad andare avanti. Io sono della mia idea, ormai tutto è stato fatto. Grazie a tutti.